Nico Tamberi, croce delizia di questo incontro, mi avviso tra migliori in campo con un aerogol ma quel retropassaggio che è costato il 2-0, spiegaci cosa è successo. Niente, proteggevo palla sulla linea del fallo laterale, cercavo un appoggio da parte di qualcuno purtroppo ho dato la palla pensando che non ci fosse nessun attaccante di loro invece si è infilato proprio tra le linee, mentre io davo la palla dietro a Di Gaddo purtroppo non l'ho visto, è stato un errore che potevo evitare sicuramente. Ecco, però da quell'errore poi una grande prestazione, un grande gol, soprattutto come stai? Era la prima partita dopo molto tempo. Sì, era già da parecchio che non giocavo e sicuramente ancora non sono al top però sto cercando di lavorare tutti i giorni sempre di più e sperando che arrivi la forma migliore che comunque è abbastanza bene. Mi sento bene, non ho alcun tipo di problema muscolare o fisico mentre è stato difficile qualche mese fa che non riuscivo a uscirci più da queste infortuni. Ecco, un primo tempo dove si è sembrato soprattutto da fuori, non avere la voglia, la cattivera giusta per cercare la vittoria. Secondo tempo tutta un'altra squadra. Purtroppo siamo partiti forse col piede sbagliato perché è stato un approccio un po' troppo leggero. Loro ci attaccavano bene, poi sappiamo che erano molto bravi davanti quindi ci hanno messo molto in difficoltà. Il secondo tempo da grande squadra siamo usciti fuori perché comunque i nostri valori li sappiamo tutti. quali sono, abbiamo fatto vedere che squadra siamo e soprattutto che non mogliamo mai fino alla fine.